cari fratelli care sorelle pace e bene buongiorno per tutto il giorno meditiamo il vangelo di luca capitolo 9 versetti 7 a 9 in quel tempo il tetrarca erode senti parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare perché alcuni dicevano giovanni è risorto dai morti altri è apparso elia e altri ancora è risorto uno dei profeti antichi ma erode diceva giovanni l'ho fatto decapitare io chi è dunque costui del quale sento dire queste cose e cercava di vederlo parola del signore secondo luca erode cercava di vedere gesù cristo perché era diventato famosissimo tutti parlano di gesù cristo perché guarisce perché fa dei miracoli il suo comportamento è notevole oltrepassa il modo di agire di fare il comportamento diciamo dei farisei e degli scrivi e perciò la gente si interroga nell'interrogarsi la gente identifica gesù cristo a un profeta antico geremia elia giovanni battista perché giustamente si dice se per esempio quando leggiamo il vela il libro del profeta malachia nel capitolo 3 versetto 1 e seguente oppure anche sidacide nel capitolo 48 versetto 10 e seguente si dice che il profeta elia tornerà per stabilire ogni cosa e per compiere la sua ammissione dunque perciò per la gente visto la particolarità di gesù cristo era ovvio di identificarlo a uno dei profeti antichi e perciò dunque in base a questi avvenimenti erode si interroga ma chi è e questo uomo chi è colui che sto sentendo queste queste notizie allora l'interrogazione della folla fa sfondo a ciò che diventerà la profe la professione di fede di san pietro tu sei il figlio di dio tu sei il messia il figlio di dio vivente e lì che diciamo arriveremo all'identità di la vera identità di gesù cristo è figlio di dio lo proclamera san pietro e perciò carissimi meditando questo brano abbiamo due cose da sottolineare la prima cosa gesù è diventato famoso perché compie i miracoli i seni noi come cristiani non cerchiamo di essere famosi ma in che modo gli altri parlano di noi nel modo positivo o nel modo negativo anche se è vero che tutto non può essere sempre buono o cattivo tutti non possono sempre parlare bene di te ma qual è la parte che emerge la parte buona o la parte cattiva come la gente ci vede come che cosa dice la gente di noi qual è il nostro atteggiamento quale il nostro comportamento quali sono le opere che compiamo che potrebbero aiutare la gente a capire a definirci come cristiani che dice la gente secondo noi chi siamo noi come la gente ci vede la seconda cosa è questa curiosità di vedere gesù cristo erode vuole vedere gesù cristo non per accarezzarlo non per ascoltarlo può darsi per ucciderlo come aveva ucciso e giovanni battista perché ogni leader politico non vuole vedere un altro leader da fastidio deve essere eliminato può darsi erode aveva anche questa intenzione di eliminare gesù cristo a questo non lo sappiamo potremmo immaginare entrando di ciò che ho detto prima cioè un leader politico non vuole vedere un altro leader allora la curiosità vediamo gesù cristo noi come cristiani abbiamo questa curiosità come lo fece zacheo di vedere gesù cristo di incontrare gesù cristo abbiamo sete e fame di vedere cristo di incontrare cristo se sì dove pensiamo incontrare questo cristo dove pensiamo vederlo abbiamo l'eucaristia ma durante la messa il pane che è diventato carne il vino che è diventato sangue come consideriamo questi elementi per abitudine perché siamo abituati ad andare per la comunione o proprio corpo di cristo e sangue di cristo così quando io mi avvicino all'altare con tutto il rispetto perché lì gesù è presente oppure anche pensiamo vedere gesù cristo nei nostri fratelli e sorelle che trascuriamo che non vogliamo neanche aiutare ma invece in loro che gesù si manifesta è lì che vedremo gesù cristo e lì che vedremo gesù cristo non possiamo aiutare dio quando trascuriamo i nostri fratelli e sorelle allora carissimi invochiamo lo spirito santo di aiutarti a testimoniare la nostra fede non per diventare famosi come gesù cristo ma per trasmettere la verità trasmettere la fede trasmettere la vita agli altri e poi anche di aprirci gli occhi spirituali anche fisici per vedere cristo e i nostri fratelli e sorelle e soprattutto anche di local sia così la nostra opera abbia un senso di carità e potremo crescere insieme e ricevere grazia su grazie vi auguro una buona e santa giornata che dio vi benedica sempre